Grazie. Roma, lunedì 17 febbraio 1936. Miei carissimi, in questo intervallo epistolare non ho ricevuto vostri scritti, ma suppongo che anche voi, come me, abbiate ben poco da raccontare. Ma ciò che più importa è che sto benissimo, anche di umore, e vorrei essere sicuro che anche voi non vi lasciaste prendere dall'agitazione e foste come me, sereni, rassegnati e fiduciosi. Venerdì 21 febbraio 36, Roma. Miei carissimi, ho ricevuto alcune vostre care lettere di quell'ultima del 14 e sono contento che non veniate a Roma per il mio processo. Del resto sapete che io sto benissimo e con che animo attendo la mia sorte. Qui fa un delizioso clima primaverile, col vantaggio che non soffro ancora del raffreddore da fieno. Sabato 29 febbraio 1936. Carissimi, vi scrivo a Torino perché questa lettera vi trovi colà al vostro ritorno. Spero che questo ritorno non sia troppo mesto, perché avrete già avuto il desiderato colloquio. Io in realtà non potrei stare meglio, anche di morale. Ve lo giuro, i due giorni del processo sono stati veramente appassionanti e certi esempi di fermezza intorno a me sono disprone a non lasciarmi comunque deprimere dalla forte condanna. Ma non ci penso neppure a lasciarmi deprimere, quando abbia la certezza che anche voi siate sereni. Siete sereni. Il mio difensore ha fatto una difesa stupenda, certo ha compiuto in modo perfetto tutto quanto poteva essere fatto per me. Diteglielo, scriveteglielo voi per me, per piacere, perché non so se potrà avere ancora un colloquio con me. Oggi sarò messo in compagnia con i miei compagni, non potremmo essere più sereni, felici di essere gli uni con gli altri. La mia mentalità giuridica non riesce in alcun modo a giustificare la sentenza, che è sotto ogni aspetto di diritto e di fatto errata. E per quel che mi riguarda, modestia impone che io riconosca di non avere meritato in alcun modo la particolare qualifica di cui hanno voluto gratificarmi e che mi ha procurato un aggravamento della pena. Nota. Foa allude al fatto che il Tribunale Speciale lo identificò come dirigente del gruppo torinese di giustizia e libertà e per questo gli aggravò la pena. Saranno meno, molto meno, di 15 anni, gli anni che passerò in carcere, ne ho l'incrollabile certezza. Perciò state tranquilli, come io sono, anche se non potrete essere allegri, come effettivamente io sono. Nelle prossime lettere vi darò la notizia di come andrò organizzando la mia vita. Per oggi mi limito ad un abbraccio affettuoso a voi e ai nostri cari Vittorio. Sì. Sono lettere apparentemente semplici, comprensibili. In realtà è difficile capirne il senso se non si conosce il contesto e se non si riflette sulla natura veramente singolare di questo messaggio, di questa corrispondenza carceraria. Perché singolare? Allora, qui Vittorio Foa, antifascista, condannato a 15 anni, dal tribunale speciale, 15 anni di carcere per cospirazione antifascista. E informa i suoi genitori, che sanno già della condanna, del suo stato d'animo. Qui ci troviamo di fronte a qualcuno che scrive non solo in una situazione di costrizione, ma avendo presenti due censori. Due. Uno è il censore fascista, il censore che, diciamo, leggerà la lettere, le lettere che scrive ai suoi genitori, che sono state poi ritrovate e raccolte in questo volume, leggerà queste lettere e in qualche caso cancellerà dei passi, le censurerà. Alcuni di questi passi sono stati, diciamo, recuperati attraverso i raggi X, però alcuni passi sono illeggibili. Quindi c'è questo censore che è continuamente presente alla mente di chi scrive, cioè di Vittorio Foa. Questo è il primo censore. Ma chi è il secondo censore? Il secondo censore è Vittorio Foa stesso. Vittorio Foa scrive ai genitori e vuole comunicargli qualcosa e vuole non comunicargli altre cose. Questo doppio registro è presente in tutte le lettere. E, diciamo, noi che leggiamo le lettere non le leggiamo come le hanno lette i destinatari, cioè i genitori, e non le leggiamo come le ha lette Vittorio Foa decenni dopo. Mi disse Vittorio Foa che, e questo dopo la pubblicazione delle lettere, che quando le aveva rilette era stato preso da un'emozione irrefrenabile. Quello che l'aveva assalito era il senso, qui lo cito, il senso della propria debolezza, che è esattamente il contrario di quello che il lettore avverte oggi, sentendo a leggere come abbiamo sentito ora, lette da Giuseppe Cederla. Cioè questa ostentazione di sicurezza, l'hanno appena condannato a 15 anni, e lui dice, io sono intanto l'incrollabile certezza che non rimarrà a 15 anni in galera, e qui, diciamo, aveva ragione, possiamo dire a posteriori, ma non poteva saperlo allora. E poi non potrete essere allegri come effettivamente io sono. Ora, quello che aveva colpito decenni dopo Vittorio Foa era questa ostentazione di forza, questa ostentazione di coraggio, mentre invece c'era questa fragilità, diceva lui. Sì, si capisce questa reazione a posteriori. E però, il fare coraggio ai genitori è fare coraggio anche a se stesso. E certamente queste lettere trasudano coraggio, trasudano fermezza. Quindi le due cose sono vere. È come la paura che spinge il coraggioso a esporsi ai rischi più terribili. Le due cose non si escludono, ma sono due elementi della stessa esperienza. Passano 13 mesi e 18 giorni e siamo sempre a Roma nel 16 aprile 1937. E qui succede una piccola cosa. In realtà scrive, non so proprio cosa raccontarvi, mi spremo il cervello per vedere se in questa trascorsa settimana è caduto qualche fatto, ma non è accaduto nulla, né di degno né di indegno. Questa frase mi piace. Si disse che i popoli felici non hanno storia. E questo l'aveva scritto Georg William Hegel. E lui dice, era una stupidaggine, ma se fosse vera per gli individui, e non lo è, io sarei al colmo della felicità. A quanto pare, qualche riga dopo scrive, ci sono delle polemiche sul razzismo che interessano direttamente anche gli ebrei italiani. E incomincia un tema che attraverseremo più volte, che è il tema dell'antisemitismo e di come lui lo vive e lo analizza dal carcere. E il riferimento è all'inasprirsi della campagna antisemita dopo la pubblicazione del libro di Paolo Orano, Gli ebrei in Italia, del 1937. Ne ignoro l'ampiezza, dice Vittorio Fo, e l'importanza perché solo qualche riflesso mi giunge attraverso le riviste che leggo. Vi sono taluni che si distinguono per la loro indipendenza, razzisti naturalmente, vi sono taluni che si distinguono per la loro indipendenza intellettuale, che propugnano il puro e semplice trapianto in Italia del razzismo biologico del sangue e delle ossa. Non sembra che costoro abbiano per il momento molta fortuna, poiché la nullità scientifica di teorie che si fondano su un primato razziale nordico simili, già manifesta per la Germania, sarebbe fuori di discussione per l'Italia. Gli avversari di questo razzismo biologico gli contrappongono un razzismo denicotinizzato, di natura ideale e morale, che consisterebbe pressa poco nell'unità spirituale della nazione, che si chiamano Romanità. Sì, qui abbiamo l'inizio di una serie di reazioni di Vittorio Foa in galera al dispiegarsi della campagna antisemita. Il termine della campagna antisemita va inteso letteralmente perché c'è stato un piano preciso e l'inizio, il Ballon d'essai, è stato questo libro di Paolo Orano, Gli ebrei in Italia, del 1937, la data di questa lettera. E più avanti Vittorio Foa farà riferimento a questo libro, che non ha letto e dice di non aver voglia di leggere, però conosce Orano e lo conosce come, diciamo, persona contraddittoria e confusa e, in questo caso, agente attivo della campagna antisemita. Ora, è stato detto da qualcuno che la testimonianza più ricca, più precisa che noi abbiamo delle varie fasi, delle fasi iniziali della campagna antisemita in Italia è data dalle lettere di questo antifascista incarcerato che è Vittorio Foa. Qui c'è qualcosa che pone, secondo me, un problema allo storico, perché, anche se è vero che, come dicevo prima, esistono dei passi censurati, in complesso l'assenza di censure sui commenti che vengono fatti e sono molto espliciti, come sentiremo, in realtà è singolare. Io confesso che mi sarei aspettato una censura molto più ampia. Ora, qui, Vittorio Foa vede delinearsi qualcosa, diciamo, che si verificherà puntualmente di lì a poco. L'intelligenza di Vittorio Foa, la sua straordinaria intelligenza, era come l'intelligenza, proviamo a fare un paragone banale, con l'intelligenza di un maestro di scacchi che prevede, diciamo, le mosse dell'avversario, diciamo, le 15 mosse successive, attraverso una serie di biforcazioni, calcolo di probabilità, eccetera, eccetera. In qualche caso, forse lo vedremo, diciamo, c'è un eccesso di intelligenza, nel senso che l'avversario non è così intelligente come Vittorio si aspetta. Però, diciamo, questa capacità di previsione che era, diciamo, l'altra faccia di un ansioso interrogarsi di fronte alla realtà. C'è un testo successivo, diciamo, il testo del dopoguerra, che si chiama, mi pare, 45 domande a Pietro Nenni. Posso sbagliarmi sul numero? È un testo singolarissimo, anche dal punto di vista letterario, perché Vittorio Foa pone una serie di domande seguite da altrettanti interrogativi e Nenni, tacque, di fronte a questo incalzare di domande che io sappia Nenni, tacque. Però queste domande, che erano domande rivolte a, diciamo, degli interlocutori, degli avversari, in qualche caso, soprattutto a se stesso. Ecco, questo era proprio tipico, diciamo, di Vittorio. Questo, sì, questo elemento interrogativo e poi, certo, cercare di rispondere. Ora qui, Vittorio Foa, vede benissimo che non ci sarà una pura e semplice trasposizione del razzismo nazista. Perché? Perché ci sono elementi, diciamo, che complicano il quadro nel caso dell'Italia. Anche se certamente un'ala, diciamo, che sarebbe pronta a importare al 100% il razzismo tedesco biologico ci sarebbe. E però, dice, si arriverà a un razzismo denicotinizzato, un razzismo spirituale. Qui c'è qualcosa di particolarmente offensivo nel caso di Vittorio Foa e della sua generazione, cioè che era cresciuta in maniera critica sui testi di Benedetto Croce, per cui, diciamo, il termine spirituale che spesso ricorre in queste lettere in senso positivo usato da Iulio Sevola per propagare, per propagandare quel razzismo denicotinizzato di cui si diceva prima è particolarmente offensivo. Però quello che, diciamo, Vittorio Foa vede è che ci saranno elementi di complicazione del quadro e, naturalmente, in primo luogo al cattolicesimo, cioè come conciliare, diciamo, una campagna antisemita con il cattolicesimo e, diciamo, qualche compromesso ci dovrà essere. Ci fu. Per dire un'altra cosa che lui, perché sono singolari il modo in cui lui reagisce nel tempo a questo inizio della sua percezione dell'inizio della campagna antisemita. Dice, del resto queste discussioni hanno un'importanza relativa perché la sorte prossima degli ebrei italiani dipende da tante circostanze, due punti, meno che da tutto il resto dipende da loro stessi. E poi dirà, gli ebrei italiani sono pochi di numero, difficilmente distinguibili dagli altri cittadini. La grande massa del popolo italiano è indifferente alla loro sorte. Una eventuale persecuzione non lascerebbe quindi, oltre alla sua esecuzione, tracce e durature nell'animo popolare. Per questo non la temo e non la depreco. e andando avanti, siamo sempre nell'aprile del 37 e qui c'è un sogno che vi leggo perché è interessante, insomma, è un altro aspetto di una persona in carcere. in genere io sogno poco, cose di scarso interesse, quasi sempre mi pare di essere libero, ma di una libertà precaria, provvisoria, pare che questo genere di sogni sia comune tra i carcerati. Qualche volta, ma di rado, sogno di correre affannosamente, inseguito dagli sbirri. L'incubo finisce che io mi sveglio e tutto contento che ho stato che è stato un brutto sogno. Che bellezza, penso, sono qui al sicuro in prigione, senza rischi di inseguimenti. E poi riprende, dice, interessante quel che mi scrive papà circa le polemiche antisemite. E qui, appunto, una lettera del 37. Con i miei compagni abbiamo riso a quelle frasi, virgolette, musicalità della coscienza, modo di comunicare con Dio, scaturizione della coscienza umana. Sono frasi di Orano, immagino. L'Orano del resto è sempre assai noto, è sempre da quel libro, è sempre stato assai noto per la sua coerenza nell'incoerenza. e poi parla di questo altro razzista professore che fa la parte dello scienziato in questa campagna razzistica, un tal professor Cogni, idealista gentiliano, gentiliano, i suoi avversari fecero subito un'applicazione molto spiritosa del suo nome, definendo le affermazioni razzistiche, fisiologiche come cognonerie, carina, né, eccetera, eccetera. Io direi che... No, vado avanti. Ecco, qua invece vado avanti perché questo è importante. Non bisogna credere che queste affermazioni estremisti siano occasionali scoperte di qualche genio solitario o frutto di indulgenze giornalistiche. Esse rispondono indubbiamente ad un piano ben preordinato. Vogliono rappresentare le opinioni di un'ala spregiudicata sbarazzina le cui responsabilità sono per il momento ben separate da quelle ufficiali caute e moderate ma di cui si dovrà bene non è vero tenere qualche conto. Sì, qui c'è la percezione di appunto una campagna orchestrata in cui ci sono delle voci che si contraddicono anche all'interno diciamo del campo antisemita. L'allusione al meridiano di Roma e l'allusione al meridiano al giornale diretto da Telesio Interlandi che era un notissimo antisemita particolarmente aggressivo e però diciamo allora c'era la possibilità di esprimere dissensi su queste su questi temi cosa che cesserà di lì a poco con diciamo le leggi antisemite io ricordo una bellissima caricatura di Maccari di Mino Maccari sul selvaggio l'organo del cosiddetto strapaese in cui si vedeva Telesio Interlandi con una matita in mano e sotto c'era scritto a Telesio Interlandi ora ognun si raccomandi sventolando come logico l'albero genealogico e si vedeva della gente con degli alberi in mano l'albero genealogico cioè si trattava di diciamo dimostrare la propria arianità allora su queste cose era ancora possibile scherzare ma ancora per poco e diciamo Vittorio Foa registra quindi queste tensioni apparenti dicendo sì c'è questa ala sbarazzina eccetera e però c'è un progetto un piano questa è una cosa seria che va avanti e diciamo è stata poi questione di un anno sì di un anno andando avanti torneremo sulla cosa dell'ansimitimitismo con altre sue riflessioni e intuizioni incontriamo invece nel settembre del 37 un altro un altro tema forte che è il tema appunto della sua debolezza o forza della sua insos come si può dire non sopportava i piagnoni le lacrime le lamentele e questa è una cosa che ci può comunque essere utile sempre nella vita anche a noi adesso innanzitutto dice perché mi dite che state solo abbastanza bene anzi fa addirittura un un rapporto ai suoi familiari che gli scrivono dice perché dite che non state bene proprio bene dite abbastanza però dice se si tratta solo di nascondermi delle melomanie sentimentali senza fondamento fate benissimo non sono questi tempi di lamentele i gusti sono mutati e qua dice questa convinzione mi si è rafforzata leggendo finalmente in un'integra edizione le ricordanze del settembrini un bravissimo uomo Don Luigi temperamento sereno ilare ottimista tempra saldissima nelle cose essenziali che restano e che contano eppure anche lui non sapeva rinunciare alla moda del secolo dell'ostentazione dell'infelicità dell'esaltazione con alquanti compiacimenti letterari della propria miseria quindi lacrime tutto spiano però poi dice comunque questo settembrini apparteneva al suo secolo aveva questa cosa qui ma non era come gli altri che ancora prima con falonieri e pellico piangevano sulle loro disgrazie sulle loro in maniera inutile e senza fondamento e senza analisi logica precisa e conclude in spavente settembrini quindi nessun vero rilassamento morale malgrado ogni contrasto ideologico essi appartenevano come genere a quella categoria di uomini che accompagnava con gioia Garibaldi nelle imprese più rischiose ma si tratta di un alito espressivo ormai caduto in disuso e qui c'è qualcosa che io leggo ma non ho capito bene che poi Carlo Ginzbo ci spiegherà che non avevo capito bene fino a poco fa quando me l'ha spiegato prima ma lo spiegherà in diretta a voi lui dice spavente e settembrini appartengono a un altro secolo un altro modo di fare anche se sono persone nobili che comunque sanno combattere la loro sorte con cipiglio le nuove generazioni dice hanno un pudore che mancava a quelli queste nuove generazioni da quello che tu mi hai sì vai pure avanti più dopo sì perché però io ah va bene allora prima di tutto una piccolissima diciamo correzione non a te ma diciamo qui c'è un errore di stampa direi che è rimasto e che in genere equivoco non si tratta di un alito espressivo ma di un abito espressivo certamente un abito espressivo ormai caduto in disuso questo è molto importante cioè qui c'è proprio una presa di distanza rispetto alla generazione alle generazioni del risorgimento detta da diciamo che viene da qualcuno che è legato in maniera fortissima alla tradizione del risorgimento cioè c'è insieme quindi senso di continuità e di distanza e allora Vittorio Foa dice sì questi qui gente coraggiosissima eccetera come Settembrini come Spaventa però c'è questo costume ottocentesco per cui le lacrime sono sempre lì per non parlare di quelli che sono di veri piagnoni come Pellico figura che diciamo Vittorio Foa e i suoi compagni Cella detestavano allora qui c'è questa presa di distanza e poi c'è diciamo in questa maniera pudica un autoritratto della propria generazione le nuove generazioni la sua le nuove generazioni hanno un pudore che mancava a quelli si tratta di un pudore profondo che non nega la mera espressione ma nega il sentimento stesso che non nega la mera espressione ma nega il sentimento stesso che nausea delle autodenigrazioni e delle false modestie che pretende di valutare la realtà con freddezza di liberare le valutazioni umane da inquinamenti mistici è un passo molto complicato perché dice pretende cioè parla di se stesso in terza persona parla della generazione pretende si potrà forse vedervi si potrà forse vedervi qualche peccato di orgoglio ma anche l'orgoglio è da esseri condotto dal suo aspetto virtuoso apprezzandosene la efficacia operativa cioè c'è orgoglio certo in noi ma l'orgoglio diciamo va accettato perché serve a operare qui c'è una radice qui c'è un croce il croce ai frammenti di etica per esempio letto da parte di chi ha fatto parte della cospirazione antifascista che quindi diciamo sente io direi anche un orgoglio retrospettivo il tema dell'orgoglio ritornerà poi in queste lettere in un passo che Giuseppe Cederna leggerà ma insieme c'è una presa di distanza quindi orgoglio e a distacco un po' sì che tornerà anche quello siamo il 4 febbraio nel 38 torniamo di nuovo al tema dell'antisemitismo perché naturalmente le notizie arrivano anche in carcere e i suoi parenti sono preoccupati mi accorgo delle vostre lettere che siete un po' arrabbiati per l'antisemitismo dilagante ne vedrete di peggio e stote parati che cos'è questo estote parati che io mi ricordavo estote parati sì estote parati cioè all'ultimo giorno è una cosa è il Vangelo sì Vangelo certo cioè la fine prossima state pronti state pronti sì è però caratteristico anche in questo caso e qua fa una riflessione interessante e dice è caratteristico come ciò che tocca da vicino fa più impressione pur essendo soltanto un elemento di un fenomeno di ben più vasta apertura cioè quello che tocca più vicino fa più impressione di quello che nei suoi effetti lontani lasciava più o meno indifferenti occorre sempre molta spassionatezza per non isolare ciò che ci riguarda va davanti va davanti scusa dammi la pagina perché qui mi sono perso scusami 357 sì sì qua è interessante lui dice certo prima sembrava lontano e non ci toccava tanto adesso si sta avvicinando a noi il pericolo e invece ci ci tocca e poi dice una cosa ancora più strana di questo distacco di Vittorio Foa che è molto particolare che ci spiegherà bene Carlo Ginzburg badate dice non parlo mica solo per voi ma anche per me sebbene possa sembrare strano degli ebrei parlo per me cioè dice a mente serena me ne rido degli ebrei e dei loro prosecutori un pezzo di ghiaccio buttato in un laghetto alpino ne abbassa forse la temperatura in modo sensibile ma la mente serena è uno stato di equilibrio instabile e allora sopravvengono quegli impulsi di cui parlavo sopra ad alterare il senso delle proporzioni e ad indignarmi più per le sciocchezze di un gazzettiere che per il fatto di essere in prigione sì dunque una minima osservazione è proprio di quelle stotte parati qui purtroppo è scappato un errore di stampa quindi è state parati una un'alexio facilior naturalmente è stotte parati ora qui diciamo dobbiamo forse fare qualche osservazione sulla che però sarà già emersa da tutto quello che è stato letto fino adesso e cioè l'uso che Vittorio Foa fa di queste lettere cioè sono delle lettere che da un lato hanno lo scopo che si diceva prima cioè rivolgersi ai genitori per dare il senso che il loro figlio in galera diciamo è forte è in buone condizioni di spirito e insieme anche diciamo dare a loro comunicare questo senso di forza di costanza di coraggio e dall'altra parte le lettere sono usate per uno scopo che invece è puramente personale cioè come diario di lettura allora sono pagine e pagine qui diciamo non fanno parte della antologia che vi stiamo proponendo in cui Vittorio Foa diciamo legge minutamente e commenta una serie di testi di carattere diversissimo che sta leggendo purtroppo mancano perché sono andate perdute delle note che erano legate alla lettura della scienza nuova di Vico a un certo punto c'è un accenno ma però le note invece proprio di lettura sono perdute quelle che abbiamo però sono una serie di note di lettura su un'infinità di libri di vario genere ecco qui c'è uno sdoppiamento caratteristico cioè da un lato c'è diciamo la minaccia nei confronti dei propri cari la minaccia nei confronti diciamo che non è solo degli ebrei in generale ma degli ebrei italiani dei propri familiari e tra l'altra parte lo sdoppiamento per cui Vittorio Foa dice guarda tutto questo come da un punto di vista distante lontano cosmico e allora dice ma un pezzo me ne rido degli ebrei e dei loro persecutori un pezzo di ghiaccio buttato in un leghetto alpino ne abbassa forse la temperatura in modo sensibile quindi da un punto di vista razionale uno potrebbe dire vabbè ma diciamo il mondo è pieno di sciagure di ignominie di crudeltà perché reagire in questo modo di fronte alle sventure che ti minacciano da vicino e poi si ritorna invece al punto di vista ravvicinato che è ugualmente vero cioè naturalmente da un punto di vista astratto uno potrebbe dire sì certo però poi invece quello che ci tocca da vicino infatti qui forse poi verrà fuori cioè Vittorio Foa continua a riflettere su questo vicino lontano e l'angoscia che lo prende nei confronti della persecuzione che avanza che minaccia le persone che gli sono più care diventa però anche l'elemento di un dialogo in cui tutto viene visto a distanza e infatti ha un sogno molto bello dice a proposito se scoprirà la guerra credo che l'Italia si impossesserà degli arcipelaghi anglo-americani dell'oceano pacifico polinesia melanesia infatti l'altra notte ho sognato ho sognato che ero confinato in una stupenda isoletta dei mari del sud un paradiso terrestre si erano alloggiati in una grande villa di nascimento italiano con una fuga di saloni al cui un certo disordine contribuiva alla comodità personale io come ultimo arrivato ereduce da lunga galera ero oggetto generale di cure e attenzioni la società dei confinati politici era veramente singolare di uomini non identificai nessuno ma in un folto stuolo di giovani ed eleganti signore tutte confinate colà senza mariti trovai parecchie conoscenze le giornate trascorrevano in modo paradisiaco chiacchierando leggendo esplorando le selve mangiando bevendo tè con pasticcini nuotando nelle acche limpidissime per colpo di fortuna non si vedeva l'ombra di un gendarme mi si spiegava se troppo lontani per tentare la fuga chi sarebbe così pazzo da voler lasciare un simile incanto questo il mio sogno se volete estrarne i numeri e giocarli all'otto veloceato volentieri così com'è è improbabile che si realizzi bisognerebbe interpretarlo ma né io né i miei compagni abbiamo questo dono anzi quando glielo ho raccontato tutti si sono rallegrati per una così lieta prospettiva ma ho subito disingannato Rossi e Cavallera è vietato l'accesso ai mariti e questa è la superba vendetta degli scapoli di Bauer e Mia gli ammogliati altro che Polinesi dovranno accontentarsi di un volgare confino tirrenico sì dunque Vittorio Foa ha riflettuto più volte diciamo nel dopoguerra sulla sua esperienza carceraria e la prima volta se non sbaglio in un numero monografico del ponte dedicato della rivista Il Ponte dedicato alle carceri antifasciste e poi una seconda volta quando Vittorio Foa intervistò Pietro Marcenaro e ne venne fuori un libro intitolato Riprendere Tempo che uscì nella collana Microstorie e io ero uno dei curatori della collana insieme a Giovanni Levi e Simona Cerutti quindi partecipammo alla costruzione di questo libro e diciamo Vittorio amava mettersi nei panni dell'intervistatore e fece una serie di domande a Pietro Marcenaro sul tema del riprendere tempo questo tema del tempo che era diventato per lui un tema di riflessione politica estremamente importante e ricordo che io lessi la trascrizione delle domande e delle risposte e dissi a Vittorio ma secondo me tu dovresti sopprimere le domande lasciare solo le risposte di Pietro e gli spiegai anche che il modello che avevo in mente era una autointervista di Eugenio Montale che uscì credo nel 46 47 e dove c'erano dei puntini al posto delle domande e Montale risponde allora Vittorio si convince quasi subito in realtà la mia proposta aveva una così era aveva un'implicazione e cioè cercare di spingere Vittorio a diciamo riflettere sul tema del tempo in prima persona quindi non soltanto limitandosi a fare le domande a Pietro cosa che aveva fatto quindi stimolando la riflessione di Pietro però diciamo Vittorio accettò e quindi ci sono questi puntini al posto delle domande le risposte di Pietro Marcenaro e poi una riflessione di Vittorio Foa sul tempo che incomincia naturalmente fortemente imperniata sul tempo carcerario allora Vittorio Foa non aveva ancora potuto rileggere le sue lettere dalla prigione io ricordo che di avere discusso allora lui mi parlò allora della sua l'esperienza del tempo quella che poi consegnò in queste pagine densissime bellissime e diciamo lui mi raccontò questa cosa che ritorna credo anche nel cavallo della torre la sua autobiografia e cioè quando erano in cella insieme e diciamo uno vedeva uno dei compagni con gli occhi persi nel vuoto gli diceva non castellare una frase di gergo carcerario castellare cioè non fare castelli in aria perché questo è pericoloso è qualcosa che elogora se tu ti metti lì a fantasticare in questo modo facendo castelli in aria in realtà la tua resistenza alle condizioni carcerali si indebolisce ora curiosamente questo tema del non castellare o invece castellare ritorna in maniera ironica attraverso questi sogni non sappiamo se siano stati sogni veri o no oppure un'invenzione comunque c'è questa specie di diciamo presa di distanza ironica dalle dalle condizioni del carcere per colmo di fortuna non si vedeva l'ombra di un gendarme mi si spiegava si è troppo lontani per tentare la fuga e poi chi sarebbe così pazzo da voler lasciare un simile incanto quindi c'è questa cosa di questa specie di dimensione onirica o pseudo onirica che diciamo si innesta nella realtà oppressiva di tutti i giorni passati in carcere e questa questa bella molto bel modo di dire non castellare torna in un'altra lettera del 38 sempre in cui il tema è ancora l'antisemitismo ma prima c'è una cosa molto umana che voglio leggere vi dice oltre alla lettera di papà del 21 ho avuto una bella lettera di nonna che mi riporta in spirito a Diano Marina la casa a vita ed in seno la famiglia lo stesso effetto l'ho provato ieri mangiando un pomodoro ben crudo ben maturo è incredibile quante associazioni mentali provochi il gusto mi pareva di sentire l'odore della salsetine marina il rumore delle onde quel che è soprattutto e poi dice appunto allora dice questo non rattristatevi troppo per me no non rattristatevi troppo per l'offensiva antisemita in corso ne va della vostra salute che è cosa per me molto importante mi rendo benissimo conto dei vostri sentimenti ma bisogna dominarli qua è proprio il fatto di come si si comporta e dice quindi bisogna prepararsi ho fatto un salto sono andato avanti bisogna prepararsi non bisogna anche qui sentirsi troppo male farsi indebolire da queste miserie bisogna prepararsi e fortificarsi l'animo agli inevitabili danni materiali e al doloroso spettacolo delle sofferenze altrue ma su questo punto forse mi faccio delle illusioni credo che si dipinga il diavolo più brutto di quello che è mi sbaglierò ma che qua fa una delle sue previsioni giusto o sbagliate ce lo capiremo noi ce lo dirai tu mi sbaglierò dice ma credo proprio che almeno nei primi tempi le restrizioni saranno alquanto inferiori al livello che hanno raggiunto in Germania e che ci sta paurosamente dinanzi agli occhi in primo luogo perché è impossibile che vada proprio del tutto smarrito il ben noto realismo dinamico della politica italiana poi eccetera eccetera e qua invece volevo chiedergli commentare questo lui dice del resto nella stessa Germania si è passati progressivamente da un antisemitismo prevalentemente politico economico ad un razzismo radicale basato sul sangue indipendentemente dalle idee e dall'attività dell'interessato se lo stesso corso si avrà come è probabile in Italia è evidente che l'obiettivo del nuovo razzismo non sarà costituito da quei quattro gatti di ebrei ma sarà un obiettivo ben più vasto il concordato del 1929 sì e questo è molto interessante e questa è una previsione sbagliata non c'è dubbio cioè l'idea è che in realtà il vero obiettivo del regime fascista è di diciamo smontare la situazione di equilibrio con la chiesa cattolica che si è creata con il concordato del 1929 per rivendicare cosa che rientra dice Vittorio Foa nella logica di uno stato totalitario rivendicare la presenza dello stato per esempio per quanto riguarda il regime matrimoniale e quindi c'è un'idea di un regime fascista che è un regime totalitario e lo è fino in fondo quindi la campagna razziale ha come obiettivo una modificazione a proprio favore dei rapporti con la chiesa cattolica in realtà noi sappiamo che questo non è successo che il concordato è sopravvissuto non solo alla caduta del fascismo ma diciamo è stato riconfermato nelle note circostanze nel dopoguerra e in realtà la preoccupazione della chiesa cattolica è stata non solo di difendere il concordato che non era attaccato ma di diciamo sottolineare che nonostante la campagna razziale nei casi dei matrimoni misti si rivendicava l'appartenenza diciamo del 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 coniuge ebreo alla alla legislazione non non antisemita quindi chi trattò questo fu se non erro Monsignor Montini e diciamo c'è un la cosa discussa nella storia degli ebrei italiani di Renzo De Felice quindi diciamo questo è un punto su cui Vittorio Foa si sbaglia certamente si sbaglia perché vede 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 troppo lontano immagina diciamo un regime fascista più totalitario di quello che era io credo che il termine totalitario che è un termine o totalitarismo che sono termini che sono diventati poi molto noti e diffusi hanno un valore analitico debole ma questo è un altro discorso andiamo ancora avanti sempre nel 38 sempre il pericolo e le nuove leggi oramai realtà le leggi sul sul razzismo in Italia le leggi razziali come tutto ciò è accaduto rapidamente come fulminiamente c'è stato rotto l'alto sonno nella testa parlo al plurale perché ho scoperto di non appartenere a quei pochi eletti che sentono con uguale intensità il male quando è lontano e riguarda degli lustri ignoti e quando invece ti capita sulle spalle fatto sta una cosa è adolorarsi e accolorarsi per la situazione creata agli ebrei in Germania un'altra cosa è il sentimento che provi a vedere la fame piombare addosso a te ai tuoi cari di null'altro colpevoli che di essere venuti al mondo in una famiglia anziché in un'altra a vedere la vita dei tuoi cari esposta a un fanatico arbitrio senza rimedio è solo la diretta esperienza del male che può dare a noi uomini comuni la piena coscienza del male e della necessità di combatterlo fuori di quell'esperienza si dicono delle belle parole e si dorme asterisco aggiungerà Vittorio Foa esagerato ma c'è del vero rileggendo aggiungerà sia chiaro mentre scrive la lettera cioè questo non è Vittorio Foa che rilegge le sue lettere diciamo 40 decenni dopo no no è lui che ha finito di scrivere la lettera la rilegge e dice esagerato ma c'è del vero allora scusa volevo solo aggiungere questo che è un'altra cosa che ci interessa a noi per oggi anche ed è forse questa la ragione del rispetto che gli uomini di coscienza ispirano le vittime i vinti di qualunque fede di qualunque colore come se essi soli testimoniassero l'esigenza di un'attività morale sì qui secondo me si ritrova in maniera drammatica quella diciamo quella tensione fra quello che è particolare che c'è vicino che ci tocca personalmente o comunque da vicinissimo e invece un punto di vista generale e quindi diciamo c'è una sorta di riflessione starei per dire autocritica se la parola autocritica non fosse stata così svilita dalla pratica dell'autocritica ma diciamo c'è una 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 riflessione che dice sì è solo la diretta esperienza del male che da noi uomini comuni c'è un tono molto aspro nei confronti di se stesso che ci dà veramente il senso dell'ingiustizia altrimenti si fanno dei discorsi generali e poi dice esagerato ma c'è del vero allora è come se si sdoppiasse secondo me questo elemento di sdoppiamento di di continua interrogazione è veramente al centro dell'esperienza io direi etica e politica di Vittorio Foa è un tema che si ritrova continuamente cioè sì ma va beh dopo si riprende sì succede qualcosa nel 39 nel settembre del 39 e anche un imprigionato se ne rende conto dice ho sentito dire che scoppiata una guerra e questa frase è in corsivo io che non non riuscivo a capire perché fosse in corsivo mi è stato spiegato che è perché è stata censurata sì no c'è una nota allora si dice cioè la cosa è veramente impressionante per capire la natura di questi documenti le mie condizioni fisiche e morali sono soddisfacenti sto aspettando dal ministero l'autorizzazione per quella visita del professor Frugoni c'è un passo su questa visita nel cavallo e la torre nell'autobiografia di Vittorio Foa questo incontro con Frugoni il famoso clinico Vittorio Foa si era ammalato del morbo di Baselov e questo diciamo è stato qualcosa di dolorosissimo per lui fisicamente e che ha una sorta di trasposizione poi su un altro piano nelle lettere perché Vittorio Foa legge la coscienza di Zeno la trova naturalmente meravigliosa e si imbatte nelle riflessioni di Svevo sul mondo che si divide in baseloviani e non e quindi lui rilegge diciamo la propria esperienza dolorosa di malattia attraverso la coscienza di Zeno comunque dice questa settimana farò una sollecitazione ho sentito dire che è scoppiata una guerra e qui nell'edizione la frase è in corsivo e poi c'è una nota e cioè le parole in corsivo erano censurate e segue una riga censurata allora qui diciamo la notizia della guerra qui siamo il 17 settembre la guerra scoppiata se non erro il 3 settembre il 39 anche la notizia della guerra arriva in carcere si potrebbe dire e però diciamo è chiaro che lui non vuole una conferma ma però chiede ansiosamente notizie cioè fa parte di questo codice criptico o semi criptico con cui Vittorio Foa comunica con l'esterno con i genitori e quindi e poi una riga censurata chissà cosa avrà detto è singolare che il censore abbia cancellato la linea successiva che non è stata decifrata non quella che pure faceva parte di una comunicazione diciamo non non perfettamente accettabile anche se era una notizia ovviamente di dominio pubblico in tutto il mondo Roma 19 maggio 1940 così sono stato 11 giorni senza ricevere posta e siccome i miei compagni avevano già lettere fino a tutto il 9 maggio è comprensibile che io fossi un poco infastidito vedo che avete intenzione di venirmi a trovare qui a Roma entro il mese di maggio ma è probabile che non mi ci troverete suppongo che andrò a Castelfranco che certo tra tutte le città del mondo è quella in cui un meno desiderio di recarmi per le sue particolarità climatiche torri dall'estate e già i dall'inverno ma io non ho alcun potere per modificare il mio destino così sono rimasto solo e in un momento sfavorevole nell'impossibilità di scaricare su chi che sia magari con in concludente lucubrazioni la dolorosa ansietà di questi giorni questa è l'unica una delle poche lettere che abbiamo scelto forse l'unica in cui appunto c'è questa ansietà questa incertezza questa cupezza questa solitudine e poi dice voi capite bene se si ha un compito da eseguire anche se è minimo anche se si è l'ultima ruota del carro l'andamento della situazione generale non può in alcun modo distrarre dal proprio lavoro ma la posizione dello spettatore inerte fra le tutte la meno invidiabile sposta come è a paurose oscillazioni psicologiche da un ottimismo irragionevole ad un cupo sconforto non crediate però che io mi abbandoni a momenti di sconforto so molto bene che quando anche siano cadute in Europa tutte le istituzioni sulle quali fondiamo la nostra fiducia in un avvenire tollerabile nulla sarà ancora perduto se esse rimarranno vive nella coscienza di poche migliaia di europei cerco di ammazzare mandate poi cerco di leggere aspetta aspetta nella coscienza di poche migliaia di europei punto e virgola e contro questa tensione spirituale le divisioni corazzate germaniche hanno scarsa influenza qui il censore non ha avuto niente da dire questo è un momento diciamo terribile e in realtà come tu dicevi giustamente sono rarissimi i momenti in cui questo momento questa questa situazione di sconforto emerge in maniera così esplicita ed è legata all'impossibilità di azione cioè l'inazione che rende diciamo insopportabile il carcere a questo punto certo aggravata dal fatto che Vittorio Foio è rimasto solo in cella i suoi compagni con cui ha stretto amicizie fortissime come Ernesto Rossi ecco se ne sono andati e qui la noia ma di cos'è la noia allora la noia beh è un termine che rimanendo uguale ha mutato di significato questa è la noia nel senso ottocentesco di Leopardi è qualcosa di profondamente doloroso non è così la mancanza di svago è questo senso di di nazione di finis europe anche se in Europa tutte le istituzioni cadessero però basterebbe una sì un senso di speranza nonostante tutto ma in una situazione veramente di sconforto gravissimo e più avanti dirà proprio continuerà a parlare della noia e avrà una reazione anche paradossale abbastanza ironica che a me piace questo paradosso del suo cioè dice mi annoio un poco cosa che non mi capitava da circa sette o d'otto anni non ci è capitato mai di pensare che noi non ci annoiamo da sette o otto anni anche qua il tempo è strano la sua misura del tempo ed è un po' paradossale dice Vittorio Fo che un uomo si annoi in questo maggio del 40 naturalmente tra parentesi scrive l'opposto della noia non è il divertimento ma il lavoro e l'attenzione anzi si dovrebbe riconoscere che non c'è nulla di più noioso dei divertimenti se essi sono permanenti come nei ricchi oziosi cessano di essere divertimenti se si tratta invece di veri e propri divertimenti cioè di pause tra attività lavorative tutti sanno per esperienza il senso di disagio di oppressione che si prova l'idea di dover tornare al lavoro in sostanza i divertimenti rendono odioso il lavoro e di riflesso anche se stessi ma se sarò re farò un decreto che abolirà tutti i divertimenti chiusi i teatri cinema e caffè chiusi i ritrovi musicali danzanti abolite le domeniche via abolite le altre festività la gente dovrà lavorare incessantemente lo sport non sarà più considerato come uno svago ma come un dovere e verrà praticato nei tempi e nei modi meno comodi per gli interessati tutti saranno vestiti solo ad un modo con abiti a rigoni ed abiteranno in casermoni mangeranno alle ore fissate dall'autorità i divertimenti saranno generalmente considerati come un'infamante degradazione della personalità e saranno perciò riservati ai soli delinquenti regolarmente condannati da tribunali del mio regno i soli galeotti fatti segno all'esegrazione generale dovranno circolare in abiti di fantasia frequentare pubblici ritrovi e così scrive costruendo utopie sfugo alla pericolosa realtà effettuale di questo maggio la gazzetta dello sport pubblica per esteso i bollettini germanici e le notizie diffuse dalle agenzie tedesche di Basilea sì qui vorrei ricordare un passo della del cavallo e la torre l'autobiografia di Vittorio Foa in cui dice che quando venne trasferito a Civitavecchia di questo si parlerà tra poco Vittorio Foa manettato in treno vide una un poliziotto con un numero della gazzetta dello sport che durante la guerra aveva le notizie in breve le notizie più importanti del teatro di guerra e lì si diceva che Churchill aveva fatto un discorso alla Camera dei Comuni dicendo viviamo un momento estremamente difficile penso che fosse un discorso in cui prometteva appunto lacrime e sangue eccetera e la reazione di Vittorio Foa in quel momento mi sentì rincuorato c'è un piccolo aneddoto c'erano due figure che nei cui confronti Vittorio Foa aveva un sentimento di come dire di profondo starei per dire quasi di riconoscenza nonostante la profondissima distanza politica e uno era Churchill il conservatore Churchill e l'altro era De Gaulle e mi ricordo che a proposito di De Gaulle mi raccontò che quando morì De Gaulle Bruno Trentin lo chiamò al telefono e gli disse capisco quello che provi e Vittorio disse si capisco e la telefonata finì lì l'assenza di settarismo da parte di Vittorio Foa era veramente straordinaria naturalmente uno potrebbe dire qui c'era il senso della battaglia antifascista in cui anche personaggi tutt'altro che di sinistra come Churchill e De Gaulle erano stati coinvolti ma c'era anche la curiosità e l'ammirazione per diciamo persone figure politiche distantissime distantissime l'elemento provinciale che è la caratteristica profonda del settarismo era qualcosa che era assolutamente straneo al comportamento pratico e mentale di Vittorio Foa 8 7 1940 Civita Vecchia e qui siamo in un altro posto completamente diverso è diverso lo suo stato d'animo è avvenuto quel che prevedevo e di cui già avevo scritto da Roma però lui pensava di andare a Castelfranco prima invece lo mandano a Civita Vecchia dopo più di cinque anni di cella trovarsi in un animato ed arieggiato camerone da quasi l'impressione di aver acquistato la libertà ciò che soprattutto risolleva gli spiriti un po' depressi è la maggiore quantità di aria da respirare voi sapete in quali condizioni si svolgeva l'oretta del passeggio a Regina Celi qui si va all'aria due volte per un totale di quasi due ore in un cortile abbastanza ampio con vicino dei giardinetti fioriti spero di potervi mandare una volta all'altra un fiorellino di saggio anche il camerone prende luce ed aria da tre grandi finestre ed è una curiosa sensazione quella di poter vedere un così grande spazio di cielo e di poter passeggiare in lungo in largo senza essere limitato da ogni tre passi da un muro abbiamo lavandini con acqua corrente non so bene entro quali limiti mi è consentito di parlare della mia compagnia ecco qua c'è una nota interessante che dice Civitavecchia a Civitavecchia Foa non poté mai scrivere i nomi dei suoi compagni tra gli altri c'erano Michele Giuwa Claudio Cianca Pietro Amendola Aldo Natoli Giulio Spallone non so bene solo ora qui sto piena consapevolezza degli effetti deprimenti di tanti anni di semisolitudine in una cella di trastevere ma le riprese rapidissime da molto tempo non mi sentivo così bene moralmente fisicamente come ora e ora che avrei tante letture a mia disposizione passo le ore a godermi in piena quietudine di spirito l'aria e la luce ho constatato in me che non è la solitudine che dà la calma necessaria a sistema nervoso ma una compagnia gradita e mentre mi ricordo poi qua c'è una notazione interessante mentre mi ricordo mandatemi per favore 400 grammi di cotone bianco da far calze in matasse e 200 grammi di lana grigia idem sì e qui abbiamo sì qui alla fine certo c'è uno squarcio di realtà carceraria in realtà sulla detenzione di Vittorio Fo a Civitavecchia abbiamo un documento straordinario che è stato pubblicato in facsimile il registro carcere politico di Civitavecchia 1941-43 e sono tre autori e due sono Vittorio Fo e Aldo Natoli che era recluso a Civitavecchia perché straordinario straordinario perché qui in questo documento ci sono i rapporti della polizia carceraria del personale carcerario data del rapporto persona o servizio a cui si riferisce il rapporto oggetto del rapporto informazioni del comandante capoguardia decisioni dell'autorità dirigente e ad un certo punto uno di questi rapporti riguarda Vittorio Fo che si comporta con insolenza adesso dovrei ritrovare il passo e quindi diciamo e poi ci sono altri passi in cui i detenuti sono diciamo soggetti a punizioni perché spartiscono spartiscono quello che hanno ricevuto non so della frutta o del cibo che quindi si dividono fra di loro infatti io ero stato invitato da Vittorio a scrivere un commento a questo documento e lo intitolai comunismo di carcere perché c'è proprio questo elemento a parte il fatto che alcuni detenuti come Aldo Natoli o Pietro Amendola erano effettivamente i comunisti ma c'è questo atteggiamento che viene perseguitato in maniera specifica con punizioni eccetera e cioè l'idea di mettere in comune qualcosa nelle condizioni del carcere e questo è vietato dal regolamento è un documento veramente impressionante e in realtà ricordo che quando ci fu la presentazione di questo documento Natoli e Vittorio Foa si ebbero un dialogo non solo pubblico ma anche tra di loro e Natoli fu convinto a riflettere sulla propria esperienza e ci fu un'intervista che è uscita in cui Vittorio Foa pone delle domande a Natoli sulla sua vita prima del carcere durante il carcere e dopo sì stiamo arrivando stiamo arrivando alla fine di queste riflessioni con alcuni esami di coscienza perché siamo nel 40 e lui è sempre la civita vecchia e riflette scrivendo riflette naturalmente su quello che ha passato sulla sua vita usa questa lettera per fare questo dice da molto tempo non provo più nostalgie o se mai ma molto di rado della nostalgia del futuro una specie di ansia di arrivare in tempo non già a godersi la vita ma a lavorare e a vivere virilmente a parte queste rare eccezioni non penso mai all'avvenire e me ne trovo molto bene né mi accade mai di desiderare di trovarmi nel presente in altro luogo da quello in cui mi trovo che è la ricetta per essere degli uomini più o meno felici come sapete ci sono religioni orientali ma insomma anche la nostra che mai pensare ad altro di dove sei vivere nel presente mi sembra che questa riflessione sia una riflessione molto saggia anche da questo punto tu è arrivato l'esperienza del carcere gli ha dato una saggezza poi naturalmente obbligata ma detto da un uomo così sì però c'è la nostalgia del futuro questo mi pare una cosa diversa e questa nostalgia del futuro è qualcosa che diciamo è rimasta anche come tema diciamo nella nella riflessione anche nei discorsi di Vittorio Foa cioè questo è rimasto fino all'ultimo la nostalgia del futuro cioè fa parte di quella di quel domandarsi di quella cosa quel lato ansioso questo mi pare poco orientale no no questo certo fa parte della nostra cultura che dobbiamo pensare che comunque c'è sempre qualcosa che dobbiamo e possiamo fare e poi qua parla invece del suo distacco qua riflette sulle lettere che abbiamo letto e qua stiamo andando e dice se voi avete letto le mie lettere del 38 avrete probabilmente individuato nettamente quel senso di distacco che mi pareva di avere conquistato permaneva sempre un dubbio in me stesso che quella conquista fosse temporanea mi pare adesso di aver eliminato quel dubbio almeno in parte nelle condizioni incomparabilmente migliori in cui mi trovo adesso come ambiente come salute mi pare di avvertire che la gioia come il dolore restano per così dire alla superficie della personalità o per essere più esatti vengono superati dalla coscienza che li pensa nella loro relatività perciò anche quando la speranza mi si apre ad un più favorevole destino personale in avvenire è con piena libertà di spirito che io avanzo la riserva e dico accada quel che può vi ho un po' annoiati con questo esame di coscienza accada quel che può naturalmente la formula è il proverbio dice fai quel che devi e accada quel che può ma qui diciamo fai quel che devi e taciuto questo fa parte del pudore di quella generazione di cui si parlava prima accada quel che può e siamo arrivati alla fine all'ultima o quasi all'ultima direi lettera siamo a Castelfranco e il 29 luglio del 43 e beh questo è un bellissimo pezzo perché è anche un po' un testamento no? è un programma dice carissimi avevo appena imbucato la lettera di lunedì quando ho avuto la notizia ufficiale della crisi di governo a Roma e della sua soluzione qui siamo il 29 luglio la nota ci dice che il 25 luglio Benito Mussolini è stato messo in minoranza dal consiglio del fascismo destituito dal re il marshalo Badoglio è stato nominato capo del governo e i mai detenuti politici non vennero liberati e lui riflette così al mutamento radicale nella situazione politica del paese non corrisponde purtroppo un adeguato mutamento nella situazione interna al carcere qui tutto è sostanzialmente immutato cioè fascista non ho molto tempo per scriverli ma non siate troppo impazienti intendo voi personalmente è chiaro che lo sviluppo ormai ineluttabile della situazione italiana porterà a decisioni a noi favorevoli in tempo prossimo ma tutti debbono nei limiti delle loro forze contribuire a questo sviluppo io sto molto bene mi accorgo che le forze mi sostengono tutto e poi c'è questa bellissima frase tutto sembra fatto e invece tutto è appena all'inizio ho una fiducia profonda non certo nelle lungimiranti decisioni delle autorità costituite ma nell'azione del popolo italiano se saprà organizzarsi e segnare al governo l'unica via da battere nell'interesse di tutta la nazione nell'intenzione di tutta la nazione l'avvenire non è facile anzi si prospetta penoso difficile ma non oscuro se l'organizzazione funzionerà le privazioni che ci attendono tutti nei prossimi mesi parlano piccola cosa in confronto alla tragicità della situazione generale alla severità dei compiti che ci attendono personalmente voi avrete la grande gioia di morale di riabbracciare i vostri figli io avrò la miserabile vanità di sentirmi finalmente riconoscere da tutti che ho avuto ragione arrivato al termine della mia lunga e dura esperienza di galera non ritrovo in me quella gioia smodata che l'immaginazione perseguiva presagiva ma solo un senso di grave responsabilità ma sono contento io non so cosa poter fare per accelerare la nostra liberazione ma non sarebbe male che il popolo dei lavoratori piemontesi sapesse che oggi come ieri noi crediamo in lui e che è per questa fede che abbiamo sopportato quello che ancora ci tocca da sopportare e io penso che in queste giornate voi mi sarete vicini con tutta l'anima e vi bacio con immenso affetto e riconoscenza Vittorio sì qui diciamo dopo mille pagine il lettore che ha letto questa lettera a carcere si trova improvvisamente di fronte a uno scenario nuovo chi parla è ancora in galera e però parla con una voce completamente diversa nel senso che la figura del censore fascista anche se fisicamente forse ancora esiste i detenuti sono rimasti ancora qualche mese in galera però diciamo di fatto sentiamo una voce diversa cioè Vittorio Foa si rivolge e si rivolge in realtà con un tono di chi sta parlando in pubblico quella frase sui lavoratori piemontesi che è stata citata molte volte la dice lunga cioè qui è diciamo Vittorio Foa alla vigilia di una serie di avvenimenti che diciamo si potevano prevedere diciamo nel senso che la guerra era in corso non si potevano prevedere nei particolari di fatto è la vigilia dell'8 settembre e della resistenza e quindi diciamo è una voce proprio completamente diversa quei due censori di cui parlavo prima a questo punto scompaiono nel senso che è appunto una figura insieme privata e pubblica che appare e si fa sentire no? Eh sì e concludiamo questo viaggio ricerca attraverso mille pagine di 552 525 lettere di Vittorio Foa con due frammenti piccoli frammenti presi da questo libro che è Vittorio Foa Passaggi che io ebbi la fortuna attraverso questo libro mi fece conoscere per un tempo breve di una sera ma sufficiente a capire che personaggio era quando Vittorio Foa compì 90 anni e non mi ricordo in che anno era quando è che compiva 90 anni Vittorio Foa? Lui era nato nel 2000 nel 2000 e i frammenti che avremmo scelto insieme sono molto belli e se vi capita di trovare questo libro è una specie di miniera di frasi riflessioni sulla politica sulla vita appunto di una persona che non è per niente settaria non è per niente vecchia ma è sempre stranamente come se si autorinnovasse il pensiero beh un frammento pagina 11 dice questo che ha a che fare con quello che abbiamo letto oggi la pubblicazione delle lettere dal carcere mi ha creato dei problemi mi mettevo nudo in pubblico come un bambino e invece sono un vegliardo leggerle tutte insieme mi ha dato emozione e anche malinconia che rapporto ho io adesso con quel ragazzo di allora la domanda si ripropone nelle più varie occasioni e la risposta è banale e solita tu sei sempre lo stesso non è vero ma non mi riesce di spiegarlo tanto forte la mia attrazione per quel ragazzo bello no? è bello che dica non è vero ma è ma è anche vero che lui sente che sia che è attratto da quel ragazzo che scrive e poi c'è un altro frammento la mia nipotina lisa foa figlia di renzo di 17 anni mi ha detto vorrei essere stata una tua coetanea nessuno mi aveva mai detto una così dolce parola di solidarietà questo l'ha l'ha scritto a 89 anni e per concludere 15 righe che sono scritte da Vittorio Foa sono la fine della prefazione di queste lettere e sono queste e con queste noi ci congediamo e non ci sono lì cose migliori di questo e infine la vecchia domanda lo rifaresti? c'è una pagina di Tolstoi in guerra e pace siamo a Mosca nel 1812 Pierre è appena tornato dalla dura prigionia francese e racconta la sua storia virgolette a nessuno veniva in mente che erano le tre di notte e che era ora di dormire si dice sventura dolori disse Pierre ma se ora in questo istante mi dicessero vorresti tornare ad essere quello che eri prima della prigionia o soffrite tutto da capo per carità chiederei di nuovo la prigionia e la carne di cavallo noi pensiamo che quando siamo spinti fuori dal solito sentiero tutto sia finito per noi invece è solo lì che comincia il nuovo il bene finché c'è vita c'è anche felicità nell'avvenire vi sono molte cose molte e questo lo dico a voi fece rivolgendosi a Natascha chiuse virgolette è una pagina molto bella e allora lo rifaresti per favore queste domande non si fanno Vittorio Foa Carlo Ginzburg Giuseppe Cederna grazie di essere venuti grazie a Biennale Democrazia lunga vita alla Biennale grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.